personalmente la mia esperienza è che non funzionano i centri per l'impiego ne ho visitato qualche mese fa uno a Mondragone dove più di metà della popolazione adulta è iscritta al centro per l'impiego e stiamo parlando di diecimila persone iscritte nel centro per l'impiego nell'ultimo anno mi hanno detto che avevano intermediato circa sei posti di lavoro di cui gli ultimi due erano nel crematorio di una città vicina c'erano sette persone nel centro per l'impiego che sostanzialmente non facevano nulla tutto il giorno chiaramente riprese da altri uffici che erano stati chiusi e allora ho chiesto ma voi non avete niente da fare tutto il giorno andate in giro ma andate a parlare con le imprese per vedere se no no non andiamo perché non ci cambia nulla non ci riconoscono neanche la spesa della benzina o mangiare un pezzo di pizza fuori dunque non c'è nessun tipo di rimborso spese e non c'è nessun incentivo per le persone che stanno nei centri per l'impiego a trovare posti di lavoro dunque non ci guadagnano di più non gli cambia assolutamente nulla le imprese non passano attraverso i centri per l'impiego dunque il centro per l'impiego serve soprattutto per accedere a degli assegni non ad altro devo dire che ho anche un'altra perplessità che il lavoro è una competenza delle regioni in italia è fallito il referendum di renzi non è passato dunque è una competenza delle regioni i navigator sono assunti dall'ampal sono assunti dallo stato centrale dunque nella conferenza stato regioni le regioni hanno ottenuto che i navigator non possano assistere i disoccupati ma possono assistere il centro per l'impiego dove gli incentivi a lavorare non ci sono allora non era meglio mi chiedo io affidare a dei centri per l'impiego privati che guadagnano sui posti di lavoro che trovano queste attività almeno vanno in giro parlano con le imprese cercano di stabilire dei percorsi questi sono assolutamente inerti allora e Grazie a tutti.